E' originaria di San Potito ma vive a Salza Irpina, la 15enne ricoverata al Moscati per tubercolosi. La ragazzina è affetta da tubercolosi polmonare e non è infettiva in quanto non tossisce. E' ricoverata nel reparto del primario Nicola Cone dove tra l'altro è ancora in cura il 12enne di San Potito. Le condizioni di quest'ultima non destano particolari preoccupazioni. La 12enne infatti non è finita in ospedale per malore ma per essere risultata positiva al test dell'ASL che sta effettuando gli screening su coloro che in qualche modo abbiano potuto avere contatto con i casi precedenti. Tra questi ricordiamo il rumeno che si era sottratto alle cure presso il Moscati per il quale è stato disposto il TSO a Salerno. A questo punto è facile immaginare, vista la vicinanza tra i due comuni, che il 12enne come la 15enne usufruissero dello stesso bus per andare a scuola. E a proposito di scuola, il caso del 12enne aveva portato alla chiusura della media Leonardo da Vinci i cui studenti, insegnanti e personale sono stati sottoposti allo screening terminato nelle scorse ore in seguito al quale è stato accertato che non vi sono casi di contagio nella scuola.